Ciao Ninetti, mi è appena arrivato un pacchetto creativo di un ordine che ho fatto dal sito Freak Emporium che trovate qui sotto nell'info box che dovete assolutamente andare a vedere perchè io da lei trovo tante cose che non trovo da nessun'altra parte, nessun altro negozio e davvero ha tantissime cosine che io ho sempre trovato uniche e bellissime e che appunto trovo solo da lei e mi è appunto arrivato il pacco preso con cordine SDA e era all'interno di un'altra busta ma l'ho già aperta per facilitarmi tutto e ora spacchetto tutto per fargli vedere tutto il mio ordine creativo ecco appunto il pacco è da Freak Emporium sto coprendo il mio indirizzo che è scritto là sopra ora andiamo ad aprire tutto lo scotch di qua e vi faccio vedere, ahia mi sono infilzata e vi faccio vedere tutto ciò che ho acquistato uh questo è proprio scotch Freak Emporium, mi piace, mi piace ok ecco qua vediamo tutto, tutto ciò che ho acquistato qui c'è la fattura e andiamo a spacchettare tutto, tutto quanto allora, prima di tutto qui c'è altro scotch ovviamente la mia carta, la bella con la pluriball allora ho preso un po' di cosine perché ho pensato una nuova collezione molto molto particolare e secondo me unica veramente unica e niente, ho dovuto prendere tutto quanto per realizzare questa collezione perché non avevo niente di quello che mi serviva quindi ho preso il filo wire oro questo è praticamente placcato oro ed è questo qua, di questa dimensione che trovo perfetta per la mia idea veramente perfetta quindi ho preso questo qui che peraltro non stavo trovando da nessuna parte poi ho preso una confezione intera di bustine queste qua, quelle trasparenti perché siccome io sto realizzando tante delle mie sirene pescevine in bustina e visto che mi servono delle bustine nuove perché devono essere ovviamente davvero davvero nuove per fare questa cosa ho appunto preso le bustine e qui ce ne sono tantissime quindi potrò realizzare sicuramente un milione di anzi duecento sono anche sbaglio vediamo sì, duecento sirene negli anni quindi ci basteranno insomma all'u... oh mio... no, fermi tutti sono un attimo morta fermi tutti quanti questo è un omaggio cioè, oddio Flavia che mi ha mandato un omaggio con tutte queste ampolline oh mio te, ma sono bellissime è l'omaggio più bello del mondo Flavia grazie guardate che ampolline bellissime oddio, no, vabbè cioè, no, non ho parole oddio grazie Flavia, grazie oh mio te, io le amo no, va bene io... cioè, tu e tua sorella siete tipo la cosa più bella del mondo sappiatelo perché io non ho veramente parole ecco, poi ho ripreso una di queste qui che sono le ampolline a fiala che nel sito proprio si chiama Ampollina Fiala in vetro 40x15 mm ed è un pezzo e praticamente l'ho presa perché devo fare di nuovo su commissione la mia piccola Vaiana che non vi ho fatto vedere nel precedente video perché l'ho creata dopo quel video ed è questa qui ve la faccio rivedere è Vaiana che nuota verso il fondo del mare per riprendere il cuore di Tefiti e vi è piaciuta tantissimo nell'app e quindi la stola devo realizzare di nuovo su commissione montata su catenina così e si illumina anche il buio anzi, se vi piace se anche voi la volete su commissione scrivetemi dove volete su Facebook in email insomma, dove volete trovate tutti i link sotto nell'info box e posso ovviamente realizzarla anche per voi quindi ho ripreso questa qui appunto che mi serve per la commissione poi ho preso questa meraviglia qui che è un'altra ampollina questa è un po' più grande infatti questa è una campana in vetro 37 x 24 mm ed è bellissima guardate quanto è bella e ha anche questa cosina qui che poi si va incollata qui sopra per attaccare il ciondolo e ho preso questa qui perché voglio farci anche qui una cosina all'interno vedrete molto presto io spero vi piacerà perché ho un po' di idee poi ho preso questi qui che sono dei copriperla traforato sono 8 pezzi sono fatti tutti così poi andiamo a vedere il resto guardate che belli questi anche questi sono dei copriperla a forma di petali ve ne apro uno perché così altrimenti non si vede come sono fatti sono bellissimi cioè guardate che belli ditemi se non sono i copriperla più belli del mondo tutti a foglie così anche questi qui mi servono per quest'idea e anche questi qui molto probabilmente verranno resi tutti oro anche se non vi so dire ancora dipende da come verrà il tutto l'insieme perché potrebbe essere che io lasci questi qui di questo colore e il contrasto dell'oro come potrebbe essere che tutto diventi oro comunque vedrete molto molto presto la mia idea e ci sono quindi anche questi copriperla qui che non potevo assolutamente non prendere perché sono bellissimi sono 4 pezzi poi ho preso una confezione di moschettoni sono 20 pezzi erano semplicemente finiti quindi li ho ripresi poi ho preso questi qui guardate la loro bellezza sono delle filigrane in forma di calla sono due pezzi e li ho presi sempre per quest'idea che poi vedrete vi faccio vedere perché li devo aprire guardate quanto sono belli cioè ditemi se non sono la cosa più bella del mondo poi ovviamente potete decidere se attaccarli ad una catenina o comunque a qualunque cosa sia da qui da questo bochino qui o sia infilandoci un filo di ferro tutto dritto dritto e anche questi qua mi servono per quest'idea cioè in realtà vi giuro se l'idea che ho in mente mi viene esattamente come è nella mia mente potrebbe essere una cosa veramente assurdamente bella quindi spero che venga bene insomma spero davvero davvero che venga bene oh ecco ho trovato il il bigliettino da visita oh c'è un altro immagino ma che carini sono dei petali lucide sono bellissimi io amo le cosine lucide le perline lucide sono troppo troppo belle prendo il bigliettino da visita dalla bustina perché ve lo voglio far vedere questi sono i petali lucide bellissimi strastra apprezzati ecco qua questo qual bigliettino da visita di Freak Emporium guardate quanto è bello poi è tutto rosa io amo follemente trovate appunto come Freak Emporium punto it grazie per il tuo acquisto presto troppo troppo bello quindi lo lasciamo qui poi vi faccio vedere altre cosine che ho preso ho comprato i miei soliti gancetti quelli che attacco dietro le crezioni in resina o anche dietro le bamboline che sono i ganci per venti ho preso 20 pezzi poi ho preso un'altra cosa bellissima guardate questi qui anche questi qui sono tipo copriperla conico in filigrana dorato questi qui erano già uro sempre per quest'idea che vi ho detto prima mi servono solo queste cosine qua insomma per quest'idea e poi ovviamente un po' di film e niente questi qua sono bellissimi guardate che belli sono veramente 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 belli devo ancora decidere questi come usarli perché si sono bellissimi ma sono anche abbastanza particolari e niente io ho una mezza idea anche per queste due su quest'idea però insomma vedrò se ci stanno realmente bene o se devo un po' modificarli comunque erano troppo troppo belli e li ho presi poi ho preso questi qui che guardate quanto sono belli forse avete visto anche me oh aspettate faccio ciao ciao guardate che luci bellissime che fanno questi cabochon fanno una miriade di colore eh sì lì c'è il cosino per lavare i vetri sì va bene all'ina ok molto perfetto sono i cabochon da 10 mm si chiamano vitri light sono a tre pezzi sono troppo troppo belli mi piace tantissimo la luce che fanno quindi ho preso anche questi qui e poi ho preso uno stampo nuovo che è la mia base che mi ho preferita l'ho preso semplicemente perché i miei stampi stavano per morire e ne ho approfittato del fatto che comunque da più tempori ci sono anche gli stampi e appunto ne ho preso uno vi leggo anche la dita scariello stampo in silicone cornice vittoriana arancione per pasta polimerica ovviamente anche per resina e questa qui sicuramente già la colore conoscete è la mia base che mi ho preferita ma mi serviva un altro stampo e io sapete quando li trovo nei negozietti e faccio già altri ordini inizio a prenderne sempre tanti di questi proprio perché mi sono molto molto comodi davvero quindi ho preso questo qui e tra l'altro la gomma è perfetta cioè veramente veramente perfetta molto rigida la trovo davvero davvero ottima questa gomma e vi ripeto io gli stampi di Freak Emporium li sto provando già da un pochino di tempo e mi sto trovando davvero benissimo quindi se vi interessa cercare degli stampi particolari attate da Freak Emporium quindi questo era tutto tutto il mio ordine creativo io ringrazio ancora mille volte Flavia di Freak Emporium per gli omaggi che mi ha mandato perché sono fantastici e sicuramente li utilizzerò subito perché veramente sono qualcosa di assurdamente bello quindi grazie 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 di cuore e niente quindi io ora mi metto subito al lavoro a vedere se riesco a iniziare a lavorare a questa mia piccola idea perché ce l'ho in testa finché non inizio rimarrò tipo non lo so un po' bloccata quindi devo iniziare subito con questa mia idea sicuramente se mi verrà bene l'idea vedrete molto molto presto qualche foto nei miei social e molto molto presto se mi verrà ovviamente vedrete un video in cui ve la spiego in cui ve la presento del tutto quindi detto questo vi ricordo che il link per entrare nel sito di Freak Emporium lo trovate qui sotto nell'info box io vi mando un bacione gigantesco rinetti e noi ci vediamo nel prossimo video ciao